Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove per lavori di miglioramento della sicurezza adesso ci sono due chilometri di coda tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno e rallentamenti tra Montelupo Fiorentino e Ginestra in direzione Firenze. Per questi lavori è chiusa l'entrata di Ginestra Fiorentina in direzione Livorno. Per altri lavori è chiusa l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Code per viabilità esterna che non riceve in uscita a San Mignato provenendo da Firenze. A Firenze per lavori fino al 31 ottobre in vigore restringimenti di carreggiata e di vieti di sosta in via Senese e in via Mario Orsini. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Anche per oggi è tutto, a domani, buon viaggio! Grazie a tutti!